e cannina 7 metri tbx della tubertini zio che mi è appena andato via un siluro che sa enorme adesso vediamo questo qua comunque a lavorando a dio che ragazzi lavora bene raga piega di brutta però ti giuro mi è andato via un pescione prima che non l'ho tenuto ma fumato 200 metri di filo e poi dopo se n'è andato questi qua sono quei gattoni bingo bongo 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 sono anche bellocci sono dei gattoni un po grossi questi qua ciao ragazzi buona giornata grazie